Buongiorno mia cara, sono sempre io, Cristina, responsabile dell'Atelier Seachas. Oggi vorrei continuare a parlarti di moda, ci tengo tanto. Ti devo dire che la moda la seguo tanto, la amo, la vivo, però nello stesso momento non la sopporto e te lo spiego perché. La moda ci ditta ogni singola stagione, ogni singolo anno di cambiare il nostro guardaromba, non ci guarda nelle tue tasche, ci ditta cambia un trend di colore, cambia la punta della scarpa, vita alta, vita bassa, insomma milioni cose da rincorrere. Però nello stesso tempo se la segui non ti rispetta neanche perché diventi parte della massa grigia che non ti distingue neanche. Ti faccio un esempio, se oggi un nuovo trend pantalone a zampa d'elefante, tutti corrono a comprare pantaloni simili, però nessuno fa la domanda se questo tipo di abiliamento sta bene proprio a me o a te. Comunque mia cara ti volevo dire una cosa importante, per essere bella non è necessario seguire la moda, importante è avere il proprio stile personalizzato. Se scegli un abito di anni 60 o un pantalone di anni 80, sarai sempre alla moda però con il tuo stile. Purtroppo siamo molto condizionati dalla moda e non è una cosa carina, quindi ti do un consiglio, non seguire la moda, segui il tuo cuore che ti fa trovare il tuo stile personale e che ti fa diventare più sicura di te stessa, più libera, più felice e molto più bella.